Ancora Signorelli, la gira bene, la palla in mezzo al campo l'Empoli, parte il lancio per Tavano, Tavano col destro, Tavano, vantaggio Empoli, 1-0, Ciccio Tavano, 101 per Tavano all'undicesimo del primo tempo. E' partito Beltrame, palla solo Beltrame, palla sul sinistro, sinistro di Beltrame sul fondo, primo pericolo per la porta di Bassi dopo il gol di Tavano con Beltrame. Il momento di De Falco a cercare, fedato, bravo Laurigny in chiusura e in anticipo, Schaudone dentro, fedato, fedato, prova il pallonetto. Lotta Pucciarelli con Schaudone, è riuscito ad allargare verso Tavano, grande guarda in angolo, Tavano ha un passo dalla doppietta e l'Empoli ha un passo dal 2-0 con Ciccio Tavano. Signorelli, se ne va Signorelli anche con un tunnel, ancora Signorelli, Tavano in posizione di alla destra, Pucciarelli in area, Tavano mette in mezzo, Maccarone! La girata è fuori, approvato Maccarone in acrobazia, fedato, conclusione di Fossati e la parata di Bassi sul tiro di Fossati, pericoloso Fossati, la partenza di Fedato, ancora Fedato dentro per Fossati, Galano, pareggio del Bari, 1-1 ha segnato Galano con un gran tiro dal limite dell'area, il pareggio del Bari. L'attacco di Verdi con Tavano, mette dentro per Micelizze, la palla sfugge a Guarna, occasione per l'Empoli, è finita 1-1 nel posticipo di questa dodicesima giornata.